il litro. Ah, guarda. E Paolo Negrini mi ricordo, mi ha detto, no, guarda, tu li devi mettere nella stanza più lontana che hai, se no non esci più. Va bene, effetti, mangiavano sempre. Guarda, te tu lui, mangiamo i salami di cioccolato. Hai fatto tu? No, non l'ho capito, non ho avuto il tempo, dovrebbe essere, non ce la facevo se no, sono un po' stanco, questa è una giornata pugnativa oggi, sì sì, se no anche la zia lo assaggi se è una cioccolata. Certo, tu lo assaggi, buono, questo è buono, la zia. Guarda, tu guarda, ci come ne vengono un tagliere. Pensa che abbiamo trovato un maiale in cioccolato e siamo riusciti a fare il salame, zia, ma io. Guarda, abbiamo tutta la voglia di prendere un maiale e levarlo. Eccomi. Ecco dopo. Sono qui. Dopo, un po' di carne si mette nel friggio. Guarda, c'è un problema. E altro si fa il salame, no? È vero. Si potrebbe fare così, ma almeno mangi il salame buono. Buono. E bisogna levarlo buono. Anna, lì te lo comprano strano, perché a furia di sentirla dire compriamo il maiale e ho detto compriamo il salame già fatto. Ma no, non lo mangia, mangia poco. Più che altro per tenere dice se viene qualcuno l'abbiamo, però abbiamo tre cotecchini nel freezer da mangiare e io non li mangio anzi. Te li do, sai così li fai. Ma perché va nella cassa di cartone hanno legato? Eh? Sì, perché le piace tutti i gatti. I gatti hanno, i gatti hanno, i gatti hanno un po' di ora.